Si viene, viene, viene. Sta venendo di più, sta venendo di più. Vero che sta venendo più forte. Tra un po'. Si è appena formato. Forse si vede due. Ma lo vedi meglio così? Meglio così, perché col binocolo lo vedi solo un pochettino. Guardalo così. La linda, violessa, linda, il blu, il verde, il blando, l'aranco. Si è ricerto, lo capisco? Vediamo se ci forma anche col pesettino là. All'arcobalino, provavo. Casale? Provo, firma l'arcobalino, almeno. Almeno? È la prima volta che lo vedo. Sì? Sì. Proprio prima volta. È perché eri piccolino quando l'hai visto il tempo fa. Sì, proprio l'avevo visto una volta. C'è quattro colori proprio. Ah, ce ne ha cinque colori. Ce ne ha cinque colori. Ce ne ha sette. Sette. Ma non ne fanno neanche tutto quello che ha fatto. Cosa è su? 50? 75? E' troppo... Io lo prendo. E' troppo... Cosa c'è? La fine dell'arcobaleno. Come? La fine dell'arcobaleno. Come la fine dell'arcobaleno? Niente. Niente. Non c'è niente. Allora. No c'è... Niente. Allora. L'arcobaleno.